Francesca Agostinelli, che dire, partita perfetta, concentrati dall'inizio alla fine? Sì, sì, sì. Sono due o tre partite che abbiamo ritrovato un po' la quadra, insomma. È stato un anno difficile per noi, per tanti motivi, infortuni, l'età. Però le ultime partite stiamo bene, stiamo giocando bene, speriamo di continuare così. Poi ricordo di quello che sarà successo nella Coppa, sempre con l'LG. L'LG è una squadra forte, non muore mai. Però stasera non l'avete proprio neanche tanta la possibilità. Non ci lo potremmo permettere, perché sapevamo che fino alla fine non avrebbero mullato un centimetro, quindi hanno belle qualità, giocano bene, hanno tecnica, forza, quindi con l'ultima partita hanno ribaltato il risultato in due minuti, quindi questo è anche un po' il calciotto, però. Certo. L'ultima stagione che era iniziata malissimo, poi piano piano siete in crescita, direi, questo finale, siete belli centrati, mi sembra. Sì, quest'anno siamo stati un po' sfortunati, soprattutto davanti. C'è venuto a mancare San Paolesi, che per noi era un riferimento importante, quindi ci abbiamo messo un po' a ritrovare il metodo di gioco, mettiamola così. Poi c'era un altro ragazzo che era venuto rudo, ma adesso anche lui si è stirato, quindi abbiamo proprio dovuto adattarci un po' alla novità. E poi, ritorno a dire, un po' anche l'annite si fa sentire. Comunque siete insieme a finale, siete pronti a lottare per... Sempre, sempre. Finché siamo qua, lotteremo fino alla fine. Grazie, in bocca al lupo, ci vediamo insieme a finale. Grazie a te, grazie a te. Ciao.